Oh, ma a che ore sono Florence? Le due e un quarto. Le due e un quarto? Oh, mi dispiace, ma devo scappare. Di già, ma prendi delle fragole ancora. No, 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 c'è Michelle che si sveglia. Ecco il tuo berretto. Grazie, quando ci vediamo. Arrivederci, grazie, telefonami. Va bene, arrivederci. Che gliene pare bella mia amica Valerie? Molto carina. Io la trovo adorabile, non le pare? Non c'è paragone con lei, vorrei proprio vederla più spesso. Per aiutarla, ben inteso. Aiutarmi come? Beh, conosco molta gente. Potrei trovarle del lavoro, le farebbe comodo, no? Ah, volevo fare del lavoro? Sì. Mi farebbe comodo, certo. Ma bisognerebbe esercitarsi con l'inglese. Questo lo so, non me la cavo molto bene. Bisognerebbe vedersi un paio di volte alla settimana. Sì, lei pensa che basterebbe? Io dico che possiamo provare. Che ne direbbe di cominciare subito? Va bene. Perché ci fermiamo? Sistemo tutto io, aspetti qui. Torno subito, un momento. Peccato, lei era un buon professore d'inglese. Grazie.